Sono Silvia e nella vita sono insegnante, insegnante di canto, cantante, operatrice olistica. Ho deciso di partecipare perché mi trovavo in una situazione in cui sentivo proprio di aver bisogno di un passo successivo in quello che è il mio percorso di crescita. Grazie a questo evento ho sentito in me nascere un'energia molto forte di fermezza e di determinazione nel risolvere alcune questioni che mi tenevano in difficoltà e mi bloccavano. In questi giorni ho imparato e ho reimparato a essere molto ferma nelle mie decisioni e ho imparato a reagire alle difficoltà della vita in modo molto, come dire, molto fermo. Lo utilizzerò subito tornando a casa facendomi una lista dei prossimi passi da compiere e terrò sempre ben presente il focus, il mio obiettivo. Non sarà mai più come prima la paura e l'incertezza che avevo e l'emotività che mostravo di fronte a certe situazioni. È stato davvero illuminante. Patrizia, io ti ringrazio tantissimo, è stata la prima volta che ho lavorato con te in presenza in un ambito intensivo, di residenziale, perciò sono felicissima del regalo che mi sono fatta e ti ringrazio tantissimo per la guida che sei sempre e arrivi sempre nel momento giusto. Grazie, ciao!